Grazie. Se vuole porre delle domande, se vuole fare dei commenti, condividere comunque anche i propri pensieri in questo momento, potete scrivere in chat e noi poi li proporremo ovviamente a Uago Sensei. Grazie. Sono tanti di commenti, vero? Si può quindi affermare che grazie ai social network sia nata una nuova poesia e all'epoca la sua risposta era stata che i social media rappresentavano una nuova forma di comunicazione rivoluzionaria e che i mezzi poetici avrebbero dovuto cambiare di conseguenza. Ecco, mi chiedevo a distanza ormai di dieci anni che cosa ne pensai e se il suo pensiero era cambiato in proposito. Grazie. Uago Sensei mi haggimente con la primavera del 2013. Grazie a tutti. S.S. è una chiamata di comunicazione di comunicazione e di amare il nostro corso in quinto. Il nostro corso del fatto che ci sono anche del vostro corso? Sì, ho parlato di una cosa che ho parlato con la veronica. Grazie mille 本当に今 世界全体がなっていますけれども 改めて震災の時もそうでしたし 10年後のコロナ禍の今もそうですが ソーシャルネットワークの進化と力を信じたいと思います だから反対に言葉を信用できるような そんな使い方を 心の弱い誰かを あるいは困っている誰かを助けるような そんなソーシャルネットワークの使い方を 私たちはすべきであって やはり言葉は美しくなければ 人を救うことができないと思うんですね 誹謗 中傷とか批判とか そういうものに使うのではなくて 怒りの吐け口やストレスの吐け口に使うのではなくて 誰かを救う 助ける 孤独な誰かに手を差し伸べる あるいは孤独な気持ちを分かってもらう そんな切実な思いからですね SNSを使い そしてTwitterに言葉を書いて 短いこの枠組みの中に言葉を書くということは 言葉を削ることになると思うんですが それがやはり詩の始まりになる ポエチの始まりになるというふうに 私は変わらずに思っています 私描くとしては allora questa nostra corrispondenza, questa nostra amicizia va avanti. Rispetto appunto a quel momento i social network si sono ulteriormente evoluti, oggi per esempio è molto diffuso Clubhouse e si parla anche di un'evoluzione, dell'introduzione di messaggi vocali anche per Twitter. È curioso come appunto dieci anni fa c'è stato il disastro e quindi i social network hanno avuto una rilevanza notevole e oggi a distanza di dieci anni abbiamo il coronavirus e di nuovo i social network hanno un ruolo molto preponderante all'interno delle nostre vite. Quindi io credo nell'evoluzione dei social network e io credo nel potere dei social network, però bisogna fare un distingo perché così come i social network e le parole possono essere utilizzate per aiutare le persone in difficoltà, per aiutare le persone le cui anime si sentono sole, si sentono perdute, può accadere anche il contrario. Le parole devono essere in qualche modo caratterizzate dalla bellezza, solo nel momento in cui nelle parole si può riscontrare la bellezza, la parola può essere salvezza. E quindi quello che bisogna cercare in assoluto di evitare invece è di usare le parole attraverso i social network per incanalare la propria rabbia, per incanare il proprio stress, cose che poi danno a fenomeni drammatici come quelli del cyberbullismo, della diffamazione online, quello della violenza verbale attraverso i social network. Ecco, io penso che se le parole attraverso i social network vengono utilizzate invece in maniera positiva appunto attraverso la bellezza della parola per aiutare le persone che si trovano in solitudine, le persone che si trovano in difficoltà, io credo nel potere dei social network. ricordiamo sempre che per esempio nel caso di Twitter c'è una cornice proprio numerica di caratteri ben definita, quindi su Twitter la parola va limata per forza di cose, per stare proprio all'interno del mezzo e limare la parola su Twitter, ecco, quella è un punto di partenza per la parola poetica. Grazie, grazie mille fra l'altro per questa risposta così puntuale che ci tocca in questi giorni, proprio perché fare riferimento a temi come il cyberbullismo o un'aggressività verbale molto presente ora sui social media è sicuramente uno dei temi più attuali ai nostri giorni. Vedo che c'è un commento. Sì, ve l'ho mostrato perché mi sembra particolarmente significativo. forse vale la pena di tradurlo e di grazie. Grazie mille. 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 10年前の今この時を思い出して今日もいました 言葉というのは何かを伝える中で それを声にすることで 時間も記憶も宿るんだなというふうに改めて思っています 声の出し方というのは私は本当に素人で ただやって声にしているに過ぎないんですけれども しかし千変万化の非常に繊細な何かを伝える力を声は持っている 非常に生々しいものだと思っています それを私自身うまく伝えたいんですが まだまだ勉強不足です 私は非常感激だったこの言葉です 2言葉に使えるのは 私の使用者があったのに 私の使用者が私の言葉は 言葉強化しが教育を もともともと称され 性化すべきのことは 私の使用者が 詳しくての人間のことを che si fa voce in qualche modo permette alla parola di diventare il tempo e di richiamare la memoria. Ora, per quello che riguarda la lettura ad alta voce, io non sono uno specialista, io mi limito a declamare le mie poesie a modo mio e da questo punto di vista ho ancora molte cose da imparare, però la parola nel momento in cui viene verbalizzata, in cui si materializza attraverso la voce, la parola acquista una vividezza particolare che non ha quando rimane solamente scritta. Quindi sicuramente il declamare a voce alta dona alla parola tutta una serie di caratteristiche peculiari. Vi però sottopongo un'altra domanda di Alice che ritorna al momento ovviamente del disastro, dice non riesco a pensare dove avrebbe potuto trovare la forza di restare solo a casa in una così terribile circostanza. La poesia è stata una consolazione, un conforto. Ancora,質問なんですけれども, 和吾先生が当時10年前, ご自宅で一人で残るっていう, このような辛さっていうのは想像もできないんですが, Sì, è vero che il senso è stato un po' di rispettere, è stato un po' di rispettere? Sì, è stato un po' di rispettere. 3月11日-3月16日-5 giorni, Note in cui c'è qualcosa che c'è stato fatto, ma twitter in cui c'è stato fatto, 3月16日, in cui c'è stato fatto. E questo 5 giorni, in cui c'è stato fatto, ogni volta che c'è stato fatto, e anche abbiamo trovato le persone che stiamo facendo Sì, 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 sì. Allora, come raccontava anche prima, ho iniziato a scrivere su Twitter il 16 marzo, quindi dall'11 marzo al 16 marzo per 5 giorni circa mi capitava di prendere magari qualche appunto sul quaderno, di segnarmi delle cose, ma in quei 5 giorni sono stati dei 5 giorni ovviamente di disperazione, perché c'era la preoccupazione appunto noi come famiglia che cosa fare, c'erano amici e conoscenti che hanno deciso di lasciare la città, quindi sono stati 5 giorni segnati anche da delle separazioni dolorose. E poi appunto, 16, sono rimasta da sola, la mia famiglia è andata via e ho iniziato a scrivere su Twitter. E lì è scattato qualcosa, perché queste parole sgorgavano spontaneamente dentro di me e io dovevo in qualche modo dar loro una forma scritta. Ed è lì che mi sono accorto, attraverso appunto queste parole, mettendola in forma scritta, dei sentimenti, cioè delle emozioni che in quel momento erano più presenti in me, che erano la rabbia, la solitudine e il dolore. Sì, sicuramente in quel momento la poesia è stata per me conforto, le parole sono state conforto, e la poesia era quello a cui in qualche modo io mi aggrappavo appunto con tutto me stesso in quel momento. Mi aggrappavo alla poesia. Sì, sicuramente in quel momento, il mio corso scorso della storia e la chiescenda stella facendo un'interessata. Il mio corso di continuo sempre al gusto di tutto mentre a sentire, spesso la parte del corso del corso di corso della storia di un'interessata, il mio corso di una sua la storia che in quel momento, Il 14 marzo, quando sono state l'explosion, al reattore numero 1 al reattore numero 3 di fukushima daici da quel momento la gente ha iniziato a lasciare la città sempre più persone appunto dal momento 14 in poi hanno lasciato la città per evacuare per allontanarsi ovviamente dal pericolo della radioattività ed è stato qui quindi la intorno a me era sempre più deserto c'era sempre più meno persone e a partire dal 16 ho iniziato a scrivere queste poesie su twitter ogni giorno ogni notte la terra tremava c'erano queste continue scosse di assestamento e io ho continuato a scrivere sempre perché per me in quel momento la parola era vita la lingua giapponese per me è la mia lingua madre è il mio paese nativo in qualche modo e in quei giorni la lingua nella lingua giapponese io sono riuscito a scovare come dire il passato il presente e soprattutto il futuro e se in quei giorni nella solitudine del mio appartamento scosso da queste tremiti di assestamento della terra se sono sopravvissuto in quei giorni è grazie alla parola e grazie alla poesia grazie a tutti a pranzo di raggiungi che ci sono stati parafano con un buon anno di cui si è dentro di ciù con il mondo ci sono stati che hanno intermercato sul nico che sono state nelle sostituite per esempio con un punto che si è ci sono state L'amore è stato fatto con la storia e la storia di il futuro. Ho pensato il fatto di la storia di questo. La storia è stata in Sybilià. L'amore è stato fatto con l'amore. Ma è stata un'amore di un'amore di un'amore di un'amore di un'amore. C'è un libro che scrivono a tutti i nostri amati. In quei giorni ho continuato a scrivere incessantemente, e come ho già detto prima, ogni 15, ogni 20 minuti arrivava nascosta da stessamento. Questo si chiama mal di terremoto, è un po' come si soffre il mal di mare, come si soffre il mal d'aria, si soffre anche di mal di terremoto. Ero senza cibo, senza acqua, senza la possibilità di lavarmi. L'onda si era portata via molti amici, molti conoscenti, eppure in quei giorni ho continuato a scrivere. E questo in qualche modo mi ha permesso di avere la percezione precisa, la certezza del legame che c'è tra l'essere umano e la Terra, del legame che c'è tra l'essere umano e l'universo. Io questo legame in quei giorni l'ho sentito con il mio corpo, l'ho sentito dentro le ossa, e ho sentito anche il legame che c'è della parola con il passato, con la storia e con il futuro. Io ho un nonno che è morto in guerra, che è morto in Siberia, e non l'ho mai conosciuto. Lui amava moltissimo la poesia, moltissimo la letteratura, però io non l'ho mai conosciuto, ma conservo tuttora i suoi diari. Ecco, in quei giorni ho sentito chiaramente la presenza di questo nonno che io non avevo mai conosciuto. Il dramma di quei giorni mi ha dato la percezione precisa del passato, della storia, della guerra e di questo mio nonno. E quindi la parola è storia, la parola è futuro, la parola è il nostro legame con la Terra, la parola è il nostro legame con l'universo. E io in quei giorni ho avuto la percezione, la certezza fisica con il mio corpo e nelle mie ossa. Io ho avuto la scena. che il fatto che il fatto che il fatto che mi ha fatto fatto l'ho fatto, in questo caso è stato un nuovo fatto di nuovo. E questo è stato un fatto che il fatto che i tuoi hanno fatto tutto. E' stato un nuovo fatto di non farò di più. Allora io in realtà fino a dieci anni fa io avevo un pessimo rapporto con i social network e fino a 2011 io non avevo mai pubblicato poesie su internet in nessuna forma, eppure dopo il disastro Twitter è diventata appunto la modalità, il mezzo con cui io ho fatto poesia e quindi in qualche modo il disastro mi ha permesso anche di scoprire un nuovo lato di me, un altro me stesso, quindi se da un lato il disastro è stata la negazione totale di tutto quello che era stato fino a quel momento, il disastro ha anche portato in qualche modo un elemento di novità. StreamYard è la prima volta che uso StreamYard e sono emozionatissimo. Ringrazio moltissimo appunto Vago Sensei per le sue parole, in realtà ci sono molti commenti e ovviamente a noi fa molto piacere e credo che faccia piacere anche appunto a Vago Sensei vedere come in realtà il pubblico italiano ha comunque reagito e si è fatto coinvolgere la sua performance e la sua poesia. Credo che a molti commenti lui abbia già risposto, molte persone hanno chiesto, l'ha spinto alla scelta dolorosa di rimanere da solo dopo che la famiglia era evacuato, come comunque ovviamente il disastro ha modificato, trasformato, ispirato alla sua poesia, tutte queste cose direi che il Sensei ha già risposto. Volevo però proporre un commento di una persona che ci sta seguendo che è giapponese perché penso che è. Ah ok, quindi questo va in italiano. Allora, questa signora Aya Mariko dice che c'è una sorta di pressione esterna, di gente che è come se le persone le chiedessero ma come, a distanza di dieci anni ancora sei triste, ancora sei arrabbiata e quindi lei questi sentimenti in qualche modo li cerca di controllare. La lettura di Vago Sensei in qualche modo le ha permesso di sublimare queste sue emozioni. Noi. Sì, 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 sì. Sì, quando ho parlato di un'errore, è difficile di fare. C'è un'è 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 un'è? C'è un'è 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 un'è? C'è un'è 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 un mi capita a me di parlare del disastro agli studenti e ci sono anche diverse occasioni in cui mi viene proprio chiesto di andare a parlare con gli studenti in merito al triplice disastro. I ragazzi, appunto i bambini che all'epoca avevano 6-7 anni e quindi i bambini che facevano ancora forse l'ultimo anno dell'asilo, bambini che avevano appena iniziato all'elementare, i bambini che avevano appena iniziato a portare il randossero con la tipica cartella, con lo tipico zainetto giapponese che utilizzano i bambini nelle scuole elementari. Ebbene, questi bambini oggi hanno 15, 16, 17 anni, sono dei giovani, sono appunto degli adolescenti, tardo adolescenti e la cosa che più mi stupisce è che all'epoca loro non avevano gli strumenti per poter parlare del disastro. Oggi invece loro li hanno e quando lo fanno utilizzano delle parole che spesso per noi adulti ci trafiggono, sono proprio delle frecciate nel cuore. 10年前から大人たちの姿を見てきた彼らは questo 10年で多くのことを学んできたと思います このメッセージを聞くという maっすぐな manazashで 今の人生を見つめている 社会を見つめていると思います in questi 10 anni, da quando avevano 6, 7 a oggi, che ne hanno 16, 16, 17 anni, questi ragazzi hanno osservato il mondo e hanno imparato tanto. In questi 10 anni il Giappone è stato colpito da altri sismi, sismi di intensità quasi pari a quello che ha colpito la regione del Tohoku. Pensiamo al terremoto che c'è stato nello Hokkaido, pensiamo al terremoto che c'è stato a Kumamoto e poi è arrivata la pandemia da coronavirus. Questi giovani che 10 anni fa andavano in giro per le strade con la mascherina per proteggersi dalla radioattività, oggi devono di nuovo rimettersi con le mascherine per difendersi dal Covid. Questi ragazzi appunto hanno visto i loro cari, hanno visto i loro amici, i loro conoscenti inghiottiti dalle onde, hanno visto le loro famiglie inghiottite e portate via dalle onde. Verso la fine dell'anno scorso mi hanno chiesto di fare da giudice per un'iniziativa che vedeva coinvolti appunto i ragazzi che dovevano esprimere i loro sentimenti in merito proprio a questa tematica. Quello che è emerso dai loro messaggi era che cos'è che separa la vita e la morte? Che differenza c'è tra vivere e morire? Perché questi ragazzi sì sono vivi, eppure ciascuno di loro porta dentro di sé un dolore indicibile per i morti di 10 anni fa. Quindi noi siamo vivi, eppure dentro di noi c'è questo costante sentimento, questo costante legame che ci lega ai morti. E quindi questi ragazzi che hanno vissuto in questo modo questi ultimi 10 anni, loro hanno una maggiore consapevolezza della prossimità tra la vita e la morte rispetto a quella che invece magari non hanno gli adulti. E proprio per questo, questi ragazzi forse hanno uno sguardo molto più fiero, uno sguardo molto più diretto nei confronti della vita, ma soprattutto nei confronti della società, di quello che possiamo avere noi adulti. Ehm... Ehm... ora come cosa, ehm... i mom che ste mi ci ha e che sono stati 5 anni, 6 anni, 7 anni, ma non c'erano 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 il 151, 6 anni, ma non c'erano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché loro all'epoca non avevano gli strumenti verbali, ma oggi li hanno. Perché invece c'è una nuova generazione, quegli bambini che oggi invece hanno 6-7 anni, loro sono nati dopo il disastro, quindi non hanno esperienza diretta. Ora, un altro compito, un'altra cosa su cui bisogna riflettere attentamente è cosa comunicare a questi bambini che sono nati dopo. Perché a volte mi capita anche di tenere degli incontri con questi bambini più piccoli e bisogna prestare molta attenzione. Perché pensiamo per esempio anche alla performance di lettura che io ho fatto oggi. Quando un'attività come questa, se viene diretta ai bambini, deve essere adattata e soprattutto bisogna ogni volta che si performa, bisogna inserire un elemento in qualche modo di novità. Perché altrimenti le parole invecchiano. Quindi bisogna stare... Quello a cui io faccio molta attenzione è quando mi rivolgo ai bambini e cercare appunto di inserire ogni volta un elemento innovativo o qualcosa di diverso per evitare che la parola risulti vecchia. E quindi questo è un compito enorme in quello che ci aspetta, trovare le parole giuste, trovare le modalità giuste per comunicare ai bambini che dieci anni fa non erano ancora nati quello che è successo. Grazie. Proporiamo un'altra domanda che ci sembra molto interessante di Anna Nora che chiede se Wago Sensei pensa che le sue poesie si hanno cambiato in questi dieci anni. In che cosa? Se il messaggio e le emozioni che trasmette sono in qualche modo diversi? Pagli, nel tempo, il decir si è cambiato in questo momento di quanto ti sentire il te stesso di un po' di non ? Scusi o chica se itadakereba tommoimasu Arigatou gozaimasu Eto Kio Atalashii si shu ga Deciました Questa è la mia nuova raccolta di poesie Omeretou gozaimasu Arigatou gozaimasu Gratulazione E' arrivato questa mattina Ureしくてこれをお見せしてしまいましたけれども Eto 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 questo è quello che avevo detto prima è la mia ultima raccolta di poesie il sample mi è arrivato questa mattina e sono talmente contento che non ho resistito a farvelo vedere invece tornando alla domanda prima del disastro io scrivevo tendenzialmente una poesia un po' surrealista mentre invece la poesia successiva, quella che è appunto dal disastro in avanti è una poesia che nei miei intenti è documentale, documentaria il mio intento mentre scrivevo era quello di documentare quello che stava accadendo quello che stava succedendo in tempo reale con parole che fossero il più possibile essenziali il più possibile semplici, di facile comprensione quasi come se la mia fosse una radiocronica, una telecronica di quello che stava accadendo tutto questo appunto, scusate se continuo a ripetere questa cosa mentre continuavo ad essere, continuavo a ondeggiare per via delle scosse di assestamento シュールレアリズムはどちらかというと 私の一番追い求めたい世界で ある意味夢を追いかけるといいますか イメージを追いかけるイメージの世界です これは私のライフワークだと思っています しかしドキュメントの実況報告をするツイッターに書く詩というのは 全く正反対のもので しかしこの10年の間 様々な現実を超える超現実が目の前で起きました その時に私自身超現実の言葉でそれを語るということが ハレーションを起こすと思いました つまり目の前で現実が私を追い越していった時に 改めて気づきました 私が思っている超現実というのは 現実が追い越していかない時に生まれたものであって 震災を経験して後に 現実が自分を追い越していった時に 目の前に超現実の世界が広がることがあるんだということが 分かった時に 改めて全く正反対の言葉を 自分の中で獲得しようと思いました それが詩のつぶてです ただの世話を見てくれてる 私たち前誓い方では 私のために 私のディースンを起こすとには 意図するとより 私たちが 私の目標を目的に 私の作役に目的な 思う人を独る 経験に 私の目標を 11月に invece, dal 16 marzo in poi, la mia poesia su Twitter è esattamente il contrario della poesia surrealista, perché è una poesia appunto il cui scopo è quella di documentare con parole semplici quello che realmente stava accadendo, quindi è una poesia quasi appunto una cronaca, come se fosse una radiocronaca o una telecronaca. Quindi il mio background era un background surrealista, ma quando io mi sono trovato di fronte a una realtà che andava oltre ogni possibile immaginazione, quindi appunto questa sorta di, mi sono trovato di fronte agli occhi un iperrealismo, come dire, inimmaginabile. E in qualche modo per poter parlare di questa realtà, di questa iperrealità appunto che andava oltre ogni immaginazione, beh, le parole della poesia surrealista non andavano bene, ed è per quello che ho adottato proprio il contrario, cioè per descrivere questa irrealità che si è fatta realtà di fronte ai miei occhi, ho deciso invece di dare un taglio più documentarista alla mia poesia. Sì. 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 Sì, Schuilrealismi uno stesso. Lo so fare vuole più farmi. E che ho abbia tempo per quanto riguarda. Tuttavia, le sue storie di scuilrealismo? Ci scuilrealismo uno stesso. Cucina di un pezzo di un pezzo. E' un pozzo di 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 uno stesso. Un pozzo di un pozzo di un pozzo di un pozzo di uno stesso. la poesia surrealista invece è una poesia più documentale in realtà il fatto di scrivere questa poesia documentale su tweet in merito a circa il disastro in qualche modo mi ha permesso anche di approfondire e di andare a scavare ulteriormente in quella che era la mia poesia precedente cioè la poesia surrealista io in questi dieci anni ho continuato a scrivere poesia surrealista ho scritto due raccolte di poesia surrealista ma tra l'altro mettendoci un arco di tempo anche molto lungo perché per ogni raccolta ci ho messo cinque anni ed è stato appunto come quando un pittore, come un astrattista dedica mesi, giorni, mesi e anni alla realizzazione di un quadro lentamente aggiungendo poco alla volta dei tocchi di colore questa è appunto per me la poesia surrealista e questo è il video di questo video, E' come se dentro di me ci fossero... la poesia è surrealista e c'è la poesia documentale, è come se ci fossero queste due colonne portanti, questi grossi pilastri dentro di me, e io faccio avanti e indietro da un pilastro all'altro. E quest'ultima raccolta di poesia che vi ho appena mostrato, questa è un po' forse la sintesi, è la sintesi di questo mio andare e viaggiare tra un pilastro e l'altro, tra la realtà e l'irrealtà. E quest'ultima raccolta io l'ho scritta pensando a tutte le persone che sono state inghiottite dall'onda dieci anni fa. Se quell'attimo tutte queste persone invece non fossero state inghiottite e fossero ancora vive, come sarebbero oggi le loro vite? Da questo pensiero nasce questa mia ultima raccolta di poesia. Sì, 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 sì. C'è un'è? Quindi, tra una poesia surrealista e questa poesia più documentale, immaginate quella del pendolo, appunto di questo pendolo che oscilla tra un polo e l'altro. Quello che c'è in comune, quello che è in comune a questi due poli è il mio desiderio, il mio desiderio di parlare con tutte quelle persone che sono state portate via, con tutti quei morti che in un attimo, in un istante, l'onda se le portate via oltre l'orizzonte. E questo è, diciamo, il motivo portante che collega questi due pilastri, il surrealismo e la poesia documentale. Grazie, approfittiamo della disponibilità di Vago Sensei per proporvi un'altra domanda che ci ha colpito. Appunto, Nicole dice, poco fa ci ha raccontato quando sia importante la scrittura per riuscire a sopportare la scrittura nel dolore avrebbe avuto un valore diverso a livello emotivo se la parola fosse rimasta solo su un foglio e non fosse stata condivisa. Grazie. 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 è vero che è diverso? C'è il senso che il senso è importante che il senso è importante? Sì, prima di parlare di SNS e internet, Il mio padre è stato fatto in questo senso. Quindi, quando è Twitter, io ho già che hai fatto di farlo. Sì, e di molti sentire il rischio. E, e di ioi fottori, sono affermi con questo, questo è quello che è la comunicazione che è la comunicazione della comunicazione in cui si tratta di capire ma prima di 1 settimane o 10 settimane non mi piace di tweet e quindi si tratta di un'acqua e che si tratta di un'acqua Come ho detto anche prima, io non avevo familiarità con i social network prima del marzo del 2011 e anche Twitter io ho iniziato a lanciare queste parole, questi cinguetti, senza in realtà conoscere bene lo strumento ed è stato solo successivamente che ho capito i meccanismi della piattaforma, i like, i follower e lì appunto in quel secondo momento ho capito quanto la potenza dello strumento in quanto mezzo di comunicazione, ma la prima settimana, quei primi dieci giorni io non pensavo a questo, io semplicemente mettevo queste mie parole che dovevano in qualche modo essere incanalate da qualche parte e le mettevo su Twitter, mettere queste parole, rilasciare le mie poesie in internet, in qualche modo era la mia ancora di salvezza. In quei giorni io l'ho fatto solo per me stesso. però, daんだんと, daんだんと, daんだんとたくさんの方に読んで いただくようになり,メッセージをいただくようになりました。 こんにちは。 私は演劇やリーディングパフォーマンスをずっとしてきている人間なので 次第に、客席にたくさんの人が座ってくださっている印象を持ち始めました。 e sci-fi no tue Grazie a tutti. Quindi ad un certo punto ho iniziato quando ho preso più familiarità con la piattaforma e mi sono reso conto che c'erano dei lettori dall'altra parte, mi arrivavano dei messaggi di feedback direttamente su Twitter. Io in precedenza appunto ho fatto teatro e in precedenza facevo appunto anche performance, facevo delle reading performance e quindi avendo questo background a un certo punto ho avuto l'impressione su Twitter di avere una mia platea, di avere un mio pubblico. E lì ho iniziato a, allora ho iniziato a darmi come dire dei punti fermi, ho iniziato a twittare quasi sempre a un orario preciso alle 10 di sera e allora alle 10 di sera le persone leggevano, mi rispondevano. Quindi c'era questo scambio in tempo reale, come due persone che giocano a palla, io lanciavo la palla e la palla poi mi veniva restituita. E' incredibile perché mi sembrava quasi che il monitor, che appunto il monitor di computer iniziasse quasi a respirare, mi sembrava di avvertire il calore umano di queste persone che mi leggevano attraverso il computer. E nello stesso modo le mie parole arrivavano a loro, quindi la peculiarità appunto dello scambio su social network è la reciprocità in tempo reale. E in quelle giornate di buio e di solitudine nel mio appartamento, con queste scosse di assestamento, Twitter e questo scambio con i lettori via etere in qualche modo mi ha illuminato il cuore da dentro. Sì, uno dice, una volta, con queste cose che queste cose che sono riempie di che hai avuto, ma questa domanda delle persone che i colori, uno scambio, per esempio che gli posto di prima della palla di lettere, una volta che si è lesse, una domanda da dire. E anche un'altra domanda di attraire a rispondate delle cose che i mangi e i libelianza. Un'altra domanda di quando, la domanda di non spiegevano più o будет, non spiegevano tutto questo, ma state di solitudine, ma state, ma state di solitudine, ma state mille delle cose che le tue per workatele delle cose che i e mi sembra che sono più in tempo reale. Sì, questo è stato fatto. 10日目のことです 怒りを抱えた私が 津波を起こした海に そのまま向かっていくという そういう詩を書きました それでその後の展開はどうしようかという気持ちも 自分の中であるんですね でも即興ですので 1回外に出てしまった私は 車で海に向かっていく私なんですけど 私はもう戻ることはできないんです それを即興で書き続けながら でも本当に静かな海が見えた気がしました この関調で下の関連の関連の関連の関連的関連の関連の関連に 実現に、そこで形を伝えていくとは あらずに流石を伝えていないと言われながら 私は何を説明はいかと言いながら 私たちに誰かで記載させていないと言われながら 私は韓国が震を回復することと言われながら 私が以上に好きでだろうと言われながら cosa che mi sono dimenticato di dire e che va assolutamente precisata le ciotole di poesia c'è una regola ben precisa perché io mi mettevo a scrivere dalle 10 a mezzanotte ed era tutto come dire in tempo reale, in presa diretta quindi io scrivevo direttamente su Twitter e la poesia quindi a seconda dei giorni queste poesie io potevo vedere la luce, potevo vedere l'acqua del mare potevo vedere il cielo, potevo vedere l'universo c'era comunque un universo poetico che si sviluppava in tempo reale e in presa diretta attraverso Twitter e più o meno al decimo giorno a un certo punto io ho deciso nella poesia di dirigermi verso quel mare, verso quel mare crudele che era appena appunto che era appena stato responsabile del disastro ero pieno completamente pieno di rabbia e come dire una volta che all'interno della poesia come dire il io uscivo di casa mi mettevo in macchina mi dirigivo in mare beh a quel punto lì io ovviamente non potevo più tornare indietro dovevo effettivamente andare avanti e dovevo vedere questo mare mentre scrivevo c'è avuto un attimo di spaesamento e adesso questa cosa come la sviluppo come la faccio ad andare avanti e quel giorno a dieci giorni di distanza dal disastro in questo mio viaggio verso il mare ho trovato il mare calmo e silenzioso che Grazie a tutti. Grazie a tutti. 自分に暗示をかけていたと思うんですね その暗示というのはいわばいい意味の暗示というか 自己暗示ですね 言葉というのは自分にそんな風にですね 新しい何かイメージを与えてくれて 扉を開いてくれて 実際は放射線量が高くて閉じこもっていましたが だけども何か自分に脱出する そんなイメージを与えてくれて そんな力を言葉が持っていて それは私の言葉ではなくて たくさんの方々のメッセージから もらった励ましであり 脱出する何か大きな力だったように思います 私はは? この空の空の空気、この空の空気を この空に温存をかけて 見せてあげる in fondo una nave la luce è quella luce dell'alba e dentro di me quello era come dire, come un panorama sacro, qualcosa, una visuale come una preghiera questo è successo dieci anni fa, ma io quella nave ma io quell'alba l'avrò vista veramente? non lo so forse la mia era autosuggestione perché grazie ai messaggi ai molteplici messaggi di incoraggiamento e di speranza che mi arrivavano attraverso internet queste parole in qualche modo forse mi hanno suggestionato mi hanno autosuggestionato in modo positivo e mi hanno permesso di scorgere su quella distesa d'acqua placida questa nave e questa luce le parole non le mie, le parole di chi mi mandava continuamente questi messaggi di speranza e di incoraggiamento in qualche modo hanno ampliato come dire le mie immagini e mi hanno aperto delle porte io vivevo chiuso nella mia solitudine nel mio appartamento e stavo rinchiuso dentro perché fuori c'era la radioattività eppure le parole le parole di questi lettori mi hanno offerto una via di fuga e questo è il potere speciale delle parole non delle mie parole ma delle parole di tutte le persone che in quei giorni mi hanno sostenuto e mi hanno incoraggiato grazie ancora una volta e ci sono due commenti sempre di una persona che in realtà già io vivo a Fukushima ci vivevo dieci anni fa al momento del disastro e ci vivo tuttora io mi trovo nella parte interna e quindi non ho subito degli danni dello tsunami ma rispetto alla città di Minamisoma dove vivo io ci sono stati anche meno danni causati dalla radioattività tuttavia ascoltando le sue parole Wago Sensei ho richiamato alla memoria una serie di cose appunto dell'epoca e il mio cuore quindi il mio cuore è stato scosso dalla potenza delle parole che descrivono i sentimenti dei sentimenti appunto con i sentimenti a cui non si riesce a dare ordine ma che le parole hanno trasmesso con una vividezza estrema sembrava un commento molto molto bello e molto toccante da una persona che è stata a sua volta testimone appunto di questi di questi eventi e proporei in realtà al Sensei un'ultima domanda perché non vorrei abusare troppo del suo tempo però appunto in realtà questa è l'ultima domanda di Daniele c'era una domanda prima anche di Giuseppe che poneva un acquisito simile quindi lo volevo proporre veramente l'ultima domanda da parte del pubblico prima di lasciare poi a Veronica la conclusione e dice dopo dieci anni cosa sente che è cambiato e non tornerà come prima e quanto invece è diventato una nuova normalità こちら 最後の質問 とさせていただきたい んですが 10年後 何が変わりましたか 何が もう 元の世には 戻れない そして 何か 新たな 日常 っていうのが ありますでしょうか 10年後 に比べますと 10年 振り返って 2度の大きな 喪失を 私たちは 味わった と思います 1度目は 震災直後から 前半 後半に分けるのは おかしいですが 分かりやすく お話ししたいので 前半 後半に分けますと 例えば 前半の 歳月 家や家族を 失って ふるさとを 失った これは 津波や 原子力発電所の 災害で 失ったわけですが 1度目の 喪失を 味わった しかし その後 歳月が 経って 特に 最近の 近年 2,3年 と 申したら いいんでしょうか 後半の 歳月に もう一度 喪失を 味わっています やはり 戻れないんだ やはり 亡くなった人は もう会えないんだ あるいは やはり ふるさとに 帰れないんだ いまだに 原子力災害で 帰れない 方々が たくさん いらっしゃいます 避難という ふうなことで 避難を しましたけれども 元の 家には 戻れない やっぱり そうなんだ こんな声も 聞きました 怒り続けるのに 疲れた 悲しみ続けるのに 疲れた 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 La prima è stata una perdita immediata perché il disastro si è portato via le persone, le famiglie, le case e quindi quella è stata una prima perdita immediata. Poi ce n'è stata un'altra successiva forse di cui si ha una consapevolezza più piena in questi ultimi due o tre anni perché ci sono delle persone, molte persone che a distanza di dieci anni in quelle case non sono ancora tornate. E quindi la consapevolezza della perdita, cioè la consapevolezza che quello che si è perso dieci anni fa non potrà mai più tornare, questo è l'aspetto duplice del disastro. E queste persone che oggi vivono con dolore la piena consapevolezza di questa perdita, di non poter più tornare a casa, di non poter più riabbracciare i propri cari, queste persone oramai sono stanche, sono stanche di provare rabbia e sono stanche di provare dolore. E quindi, come se stanche di provare rabbia, sono stanche di provare rabbia, di non poter più oltre, di non poter più oltre, di non poter più oltre il lavoro. Sì, non è vero che la vita. Soprattutto in questo senso. Nel villaggio di Itate c'è un... C'è una persona che io ho intervistato più e più volte nel corso degli anni. Beh, lui faceva l'allevatore, aveva un allevamento dei bovini e si è trovato costretto dalle circostanze ad abbandonare questa attività. Ha riconvertito la sua attività, adesso fa l'agricoltore, coltiva grano saraceno, quello con cui si fa la soba. Parlando con lui, quello che è emerso è che le persone non tornano, le persone continuano... Chi all'epoca aveva deciso di evacuare, molte di queste persone non rientrano nel villaggio di Itate. Soprattutto non tornano i giovani. E quindi lui, come agricoltore, è molto rammaricato da questo perché se non ci sono i giovani, vuol dire che non ci sono i giovani... Nessuno poi... Non ci saranno appunto gli agricoltori, non ci sono ragazzi che si interessano alla sua attività eventualmente per portarla avanti in futuro. E dietro a questo sicuramente c'è il timore della radioattività, come naturale che sia, nonostante i livelli siano sempre inferiori, siano sempre più bassi e oggi si possa coltivare in sicurezza. Però se non ci sono... Se le persone non tornano e se non ci sono i giovani, per questo villaggio non c'è futuro. Ed è questa la preoccupazione, il ramarico più grande che questa persona ha condiviso con me. Sì, questo è il ramarico più grande che questa persona ha condiviso con me. 10年後の世界の現在は似ています だからこそ私たちは今通じ合えるのではないかと思っています 10年前の福島の日々とコロナ禍のこの現在の日々 何か二重写しになって見えてくることで 私たちに問いかけられているのは いかにシンプルに考えることができるか 身の丈 つまり自分のこの身長よりも 上の世界ではなくて 身の丈にあった暮らし シンプルな暮らしをいかにすべきなのか そんなふうにさまざまな災いをくぐり抜けて 私たちは改めて今考え直そうとしていると思います 10年前は日本は経験だと in comune con quello che hanno vissuto le persone del Tohoku dieci anni fa. Le giornate, il modo in cui le persone passano le giornate in tutto il mondo somiglia molto a come gli abitanti della mia regione vivevano dieci anni fa e quindi a volte mi sembra quasi di vedere delle immagini esoppiate tra Fukushima dieci anni fa e coronavirus oggi. Qual è l'insegnamento che noi possiamo trarre da tutto questo? Secondo me è cercare di pensare le cose in modo semplice. In Giappone c'è un modo di dire che significa più o meno adottare, cioè vivere in maniera consona alla propria altezza. Quindi l'essere umano è alto un tot, dovrebbe vivere in maniera adeguata, in maniera consona a quel tot, senza cercare di andare oltre. Ecco, io penso che queste catastrofi ci offrano la possibilità di ripensare i nostri stili di vita, per adottarne di diversi e forse più semplici. ecco, io penso che ci sono stati di ripensare i nostri stili e ci sono stati di ripensare i nostri stili Sì Grazie a tutti. 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 Per quanto riguarda l'essere umano possiamo pensare all'essere umano come a un albero. Ciascuno di noi ha il diritto alla vita, ciascuno di noi ha la libertà alla vita e ciascuno di noi deve interrogarsi su quello che è il senso di questa vita e un albero è fatto di radici, è fatto di tronco, è fatto di rami e ogni ramo presenta delle foglie e sulle punte di questi rami ci sono delle gemme, delle gemme che un giorno diventeranno fiori e poi frutti e infine semi. Ora se noi vogliamo consegnare, se noi vogliamo affidare ai bambini di oggi questi semi, le nostre radici oggi devono essere ben salve nella terra. Grazie. Non mi rimane che ringraziare veramente di tutto cuore il professor Wago Ryoichi per la disponibilità, nonché anche la superba traduzione di Ozumi Asuka senza la quale obiettivamente questo incontro non sarebbe stato possibile. In particolare ci terrei proprio a ringraziare il professor Wago non solamente per la performance poetica ma anche per questa condivisione a cuore aperto, regalandoci quindi una duplice testimonianza, quella appunto della sua poesia ma anche quella di questo dialogo tra Italia e Giappone che secondo me oggi è veramente riuscito alla perfezione e speriamo quindi che sia solamente l'inizio di una lunga serie di collaborazioni che ci portino appunto a ripensare non solo alla poesia ma anche a questo triste disastro nel futuro. Quindi di nuovo i miei più profondi ringraziamenti per la disponibilità, per la sua presenza qui e in bocca al lupo naturalmente anche con questa nuova uscita che personalmente sono desiderosa di leggere. Grazie. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 E perché no? Per berci un bicchiere di vino, io sono un grandissimo amante del vino e sorseggiare un bicchiere di vino è parlare di poesia, parlare di letteratura e parlare della vita. Vi ringrazio profondamente, grazie mille Veronica e soprattutto grazie mille al professoressa Scrolavezza per questa occasione e davvero spero anch'io che questo sia un primo passo e che possano esserci in futuro altre occasioni del genere. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.